Mu Ichimozu Mu Ichimozu è un'espressione giapponese che significa non una cosa, usata da Wineng, 638-713, sesto patriarca Zen in Cina. Per Wineng, tutte le cose sono manifestazioni del vuoto. Commento I maestri immateriali hanno sostituito il concetto di vuoto di Wineng con il concetto di assoluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.